ciao amici e benvenuti nel mio canale oggi facciamo le patate marinate intanto dopo averle sbucciate e le tagliate a rondelle di questa dimensione aggiungiamo dell'olio evo e andiamo a disporre le patate in questo modo in forno a 200 gradi per 20 minuti controllate la cottura prendete la mollica e la spezzettate tutta aggiungete il formaggio mischiate con le mani poi aggiungete il prezzemolo tritato e l'aglio io di solito mi preparo un vasetto che conservo in frigo questo è già tutto pronto aggiungo il pepe e anche il sale aggiungo anche pomodorini schiacciati e senza semi possibilmente e lo taglio a pezzettini condisco il tutto con un filo di olio evo nel frattempo le patate sono cotte ci metto ancora un po' di sale ora mettiamoci il nostro composto sopra le patate e via in forno a gratinare a 180 gradi per una decina di minuti controllate il forno grazie amici per aver guardato il video se siete arrivati fino a qua regalatemi un like iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti ora vi mando un grosso bacio e un saluto ciao alla prossima